Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale che come di consueto potete seguire in contemporanea sul vostro televisore canale 12 e ovviamente anche sul nostro sito e sulla nostra app di etv marche buon santo stefano e di questo parliamo nella prima parte dell'edizione marchigiana del tg perché vi proponiamo questo appuntamento una super tombola nel segno della condivisione in diretta su etv dalle 17 e anche lo spettacolo del doppiatore marchigiano tombola in tv con richi premi spettacolo del doppiatore marchigiano una copiata straordinaria per il 26 dicembre santo stefano a pieve torina e il sindaco alessandro gentilucci ad annunciare due appuntamenti molto attesi dalla comunità dell'alto maceratese si tratta di un natale all'insegna del divertimento per portare sorrisi alla nostra gente con una proposta assolutamente originaria la diretta televisiva appunto su etv del gioco natalizio per eccellenza cui faranno seguito le divertenti battute del doppiatore marchigiano vogliamo restituire una dimensione di festa vera a questo territorio che ancora un po ci manca la condivisione lo stare insieme il divertirci insieme ecco appunto l'appuntamento odierno a partire dalle 17 che verrà trasmesso in diretta sulla nostra rete e rimaniamo nell'alto o meglio rimaniamo nel maceratese perché ci trasferiamo a camerino dove è stata presentata un'iniziativa interessante da parte dell'università con il nostro roberto properzi che ci racconta tutto forse sarà perché è il mio ultimo natale da lettore che quindi diciamo per me questo dono ha veramente un valore diverso è un dono che noi facciamo a questa comunità universitaria ma è un dono che forse stiamo facendo a tutti noi a noi stessi un dono a tutta la comunità accademica così il magnifico rettore Claudio Pettinari ci presenta la bella iniziativa dell'università di camerino un calendario da completare con le figurine che andranno a comporre scatti fotografici in cui vengono rappresentati i momenti di vita universitaria in tutte le sedi dell'ateneo abbiamo pensato che grazie al lavoro delle persone e qui la persona è veramente al centro si può lasciare un'impronta un'impronta come quella che io questa mattina ho cercato di mettere su questo calendario un'impronta che è caratterizzata dai volti delle persone che sono rappresentate all'interno di queste buste dove abbiamo delle figurine che andranno a riempire questo calendario dunque le persone al centro di tutto e soprattutto con gli studenti protagonisti della realizzazione delle foto e della promozione del calendario che sarà disponibile presso il punto informativo di Ateneo al campus universitario il ricavato della vendita sarà utilizzato per implementare il fondo per le attività culturali e ricreative degli studenti stessi chiusura con gli auguri di Natale del Rettore che ricordiamo si appresta ai suoi ultimi sei mesi effettivi di mandato sappiamo che il 2023 non sarà meno difficile del 2022 però siamo certi che anche il 2023 lo supereremo alla grande con il nostro lavoro con la nostra energia con i nostri sorrisi necessari ogni giorno perché dal nostro sorriso la gente capirà che unica ma è sempre con loro vi abbiamo proposto in apertura di questo telegiornale due iniziative che arrivano dall'area del cratere che ovviamente interessano anche le feste di Natale che di fatto continuano ma vediamo quanto accaduto ieri ad Ancona perché c'è stato un pranzo solidale a disposizione delle persone meno fortunate quelle che sono costrette ad affrontare giornate rigide in strada senza un'abitazione e dunque la mensa del povero della Caritas si è messa a loro disposizione come al solito vediamo com'è andata nel racconto della nostra Laura Meda tortellini, ravioli, poi ci sarà pollo, poi ci sono chiaramente i dolci, panettone, torrone siamo riusciti a venire qui che almeno si sta dentro, di solito mangiano da sporto quindi oggi è Natale veramente, siamo contenti sorride di gioia su Arsettimia, di solito racconta poveri e senza tetto si mettono in fila per ricevere il proprio pasto da sporto mangiando poi per strada al freddo ma oggi la nuova mensa della Caritas ad Ancona è aperta per tutti qui sono arrivati anche coloro che di solito frequentano la mensa di Padre Guido a Natale le porte non devono rimanere chiuse, aperte le porte del cuore e le porte della mensa le tante persone che ogni giorno si regano alla mensa oggi trovano aperto per un'accoglienza, per la condivisione di un pranzo di Natale per il calore, Gesù ci ha invitato ad amare e questo è un bel segno, concretezza e non solo parole Prima arrivano i volontari, verso mezzogiorno sono già tutti intenti alla preparazione dopo mezz'ora iniziano ad entrare gli ospiti, qualche faccia nuova ma più che altro sono vecchi amici e amici che hanno molto da insegnare Se pensiamo a queste persone che non sanno dove dormire, che sono per strada, per noi è un insegnamento Ci insegnano tanto, sono persone che hanno cultura, che hanno viaggiato, che hanno girato, che provano sentimenti e soprattutto ci insegnano che cosa conta nella vita Ti telefono non solo per chiedere o per avere qualcosa ma solo per salutare, per sapere come stai, come sta la famiglia, come è passata la giornata Quindi una persona che ha tanti problemi dedica un momento a te per ringraziarti o semplicemente come un gesto d'amicizia Queste sono le cose più belle, veramente ti fanno fermare da quello che fai e ti fanno riflettere Moreno, Samira, Silverio, Maria Concetta e molti altri In mano, piatti e vassoi sul viso, un grande sorriso Fare i volontari qui non è pesante, anzi è un po' come essere in famiglia È una famiglia un po' più estesa Guardandomi intorno quando sarà a piedi, vuol dire che a posta di 4-5 familiari saremo in 200 Non vedo tanta differenza La sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli E' un bilancio di fine mandato, anche se mancano ovviamente alcuni mesi Prima che Ancona andrà al voto per eleggere la nuova fascia tricolore del capoluogo Ma anche gli auguri di Natale della Mancinelli dopo i suoi dieci anni da sindaco Da sindaco dopo dieci anni questo di fatto sarà l'ultimo Natale Che emozione provo? E' un'emozione bella, è un'emozione bella con un pizzico diciamo di nostalgia anticipata Però anche bella perché oddio sti dieci anni sono volati, devo dire onestamente sono volati Se ci penso un momento e mi guardo indietro pare che sia ieri insomma Che abbiamo iniziato questa bella avventura E quindi un po' di emozione c'è Invece i suoi aspici, gli auguri agli anconetani e non solo perché insomma sarà un Natale della ripartenza? Può essere un Natale della ripartenza su tutta la linea? Penso di sì, mi pare evidente che ce ne sono diciamo tutte le condizioni La ripartenza è una cosa bella, è una cosa importante Ovviamente è complicata Pensiamo solo, che ne so, al famoso PNRR Benissimo che siano arrivate e stiano arrivando risorse, soldi Importanti e significative E adesso bisogna riuscire, come si dice, a metterle a terra Che è altrettanto complicato che trovarli i soldi Quindi la ripartenza è un fatto positivo, sicuramente anche entusiasmante E ovviamente l'augurio che io faccio a me, a noi tutti È quello di riuscire a coglierla pieno questa ripartenza Però so che sarà anche faticosa Un bel pezzo del nostro futuro, del paese e anche della città di Ancona Si gioca proprio su questa capacità di utilizzare le risorse e gli strumenti Che si è riusciti a conquistare in questa situazione straordinaria Sapendo che le risorse sono straordinarie Gli strumenti, gli arnesi, per utilizzarle sono quelli di sempre E non sono proprio particolarmente efficaci Quindi sarà una bella impresa, ma credo che ce la faremo Con l'ottimismo di sempre, con la fiducia nel futuro Non bisogna avere paura del futuro Il futuro credo che ci può presentare e ci può far vivere momenti belli, significativi Il mio augurio quindi è questo Che ognuno, ovviamente ognuno nei ruoli diversi che abbiamo nella vita della comunità cittadina Che ognuno possa fare, come si dice, il suo Per costruirci un futuro bello A Fano è stata inaugurata una nuova TAC all'ospedale L'obiettivo è che le persone dell'Alto Pesarese possano recarsi proprio in città Per effettuare esami diagnostici piuttosto che andare in altre regioni Vediamo Un innesto di fiducia per il sistema sanitario che stiamo potenziando E su cui stiamo investendo Così l'assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Salta Martini All'inaugurazione del nuovo tomografo assiale computerizzato nel presidio ospedaliero Santa Croce di Fano Obiettivo far sì che i pesaresi non ricorrano più ai servizi fuori regione La Regione Marche in questi due anni di amministrazione della Giunta Acquaroli Ha investito fortemente con i milioni di euro per un nuovo ospedale di Pesaro Per gli investimenti su Fano, per gli investimenti con il PNRR Con cui si potenzia tutta la struttura operativa degli ospedali di comunità Partendo da Sosso Gorvaro, Macerata Feltri, Acagli, Fossombrone, Pergola In questa direzione continua a Salta Martini Il bilancio che fra pochi giorni la Regione approverà Finanziamo 150 borsi di specializzazione 100 per i medici di medicina generale e 50 per gli specializzanti Il che significa che il turnover, cioè il numero dei medici che vanno in pensione Sarà supportato dal doppio degli specializzanti che entreranno nel mercato Il secondo investimento di ben 9 milioni Noi compriamo delle attrezzature per i medici di medicina generale Che confluiranno in studi associati I studi medici associati E compreremo nuove tecnologie POCT per fare le analisi Quindi cerchiamo di far sì che tutto ciò che può essere fatto Non nel pronto soccorso Possa essere fatto appunto a cura di medici di medicina generale L'innovativa TAC Revolution di Fano Che va a sostituire un vecchio macchinario del 2007 Permette un'analisi dettagliata in poco tempo e con pochissime radiazioni Si tratta di una GE a 128 strati Che permette di ridurre notevolmente quella che è la dose erogata ai pazienti Di eseguire prestazioni ancora più rapide E soprattutto di coprire tutti gli ambiti della tecnologia TC Permette di essere avanti con i tempi Ed essere sul pezzo Ed essere sul mercato Anche con l'innovazione tecnologica Noi siamo in chiusura Io vi ricordo che come di consueto Potete consultare tutte le news e videonews Sul nostro sito www.etvmarket.it Da parte mia un ringraziamento per averci seguito Un buon proseguimento di giornata E un buon Santo Stefano Arrivederci Grazie 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 Grazie